La prestazione della sua squadra Ma sinceramente mi aspettavo oggi di prendere tre punti Visto come era invece un punto, sì, meglio di niente, però niente di soddisfacente Questa volta alle telecamere di Sermidiana Magazine c'è Eusebio Baldo Perché mister Guicciardi è a letto con la febbre Intanto gli facciamo aggiungere i nostri migliori auguri di pronta guarigione Allora, auguri intanto al me mister di pronta guarigione Perché senza di lui faccio fatica È indispensabile Però oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione anche per lui Il risultato giusto, devo dire, combattuta Poche occasioni da gol Oggi l'importante era muovere la classifica Molto importante per noi perché arriviamo da un periodo un po' attitubante Però i ragazzi oggi hanno risposto bene sul campo E devo dire che alla fine il risultato è giusto Molto contento della prestazione e del punto portato a casa Ecco Grazie a tutti Grazie a tutti